Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, oggi siamo qui tornati su FIFA 23 e oggi sceglieremo la squadra che useremo per questa nuova carriera allenatore questa nuova avventura che faremo sarà una serie come l'ultima che ho fatto qui su FIFA ovvero la carriera allenatore con il Milan di AL7 quindi c'era questa aggiunta, ovvero che c'era il mio giocatore al Milan non faremo la stessa cosa oggi con la squadra che sceglieremo ma sarà un progetto particolare, tra poco ve lo spiego prima però, anche prima di scegliere la squadra che in realtà ho già scelto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace condividete il video con tutti i vostri amici perché secondo me verrà fuori una bella serie però ovviamente verrà bella solo con il vostro supporto quindi supportate alla grande anche questa serie e ragazzi scegliamo la squadra la squadra in questione sarà in Italia l'ho già scelta l'ho scelta già e sarà proprio il... no non è vero, non sarà il Milan perché l'abbiamo già usato ma sarà la Roma la Roma FC che qua vabbè su FIFA purtroppo non ha lo stem e le maglie ufficiali ma ce ne sbattiamo altamente il cavolo e noi facciamo la carriera allenatore con la magia Roma andiamo dentro eccoci qui, ci siamo questa è la squadra la sistemeremo allora vi spiego il progetto in questo primo episodio parlerò molto giocheremo di meno ovviamente anzi non giocheremo proprio credo, non lo so anzi sì sì non giocheremo sicuramente ma parlerò molto quindi io ci tengo che so che magari è un po' noioso però ascoltate tutto il video perché spero di riuscirla a mettere in pratica questa serie come ce l'ho in mente perché in mente potrebbe uscire veramente una roba bella ovviamente vi ripeto col vostro supporto quindi supportate la grande anche questa serie allora il progetto che ho in mente per chi ha seguito la scorsa serie con il Milan di AL7 e sì vi ricordate in quella serie lì giocavo praticamente solo le partite di Champions o le partite tipo le finali o anche tante altre partite importanti e alcuni mi hanno detto è meglio giocarle tutte è meglio giocarle e non simularle è vero perché è ovviamente più bello ma c'è anche meno rischio perché se perdo io con le mie mani è colpa mia se simuliamo e perdiamo non è colpa mia e quindi lì ti incavoli ma non ti puoi incavolare con cioè con chi ti incavoli con nessuno se non con il gioco e io siccome siamo in Europa League ragazzi ho in mente una cosa allora di base come con la scorsa carriera quindi con quella del Milan voglio fare una stagione cioè una stagione intera se vedo che tutta la prima stagione vi piace vi stanno piacendo i video faremo anche la seconda stagione quindi dipende tutto dal vostro supporto quello che ho in mente è l'Europa League ce la giocheremo tutta e invece in campionato come ho fatto con il Milan di L7 con la carriera con il Milan faremo giocheremo solamente tutta l'Europa League ok tutta l'Europa League oh cavolo ho tirato una botta all'incrofono tutta l'Europa League ma anche anche la Coppa Italia la giocheremo e giocheremo le partite più importanti di Serie A le altre le simuleremo o altrimenti se sono partite che magari tipo non lo so la Cremonese per esempio no anzi no una scuola un po' più forte ma più debole di noi la Fiorentina per esempio magari se siamo in una situazione brutta in classifica la simuliamo in modo che giochiamo solo le azioni importanti quindi questo è quello che voglio fare non le giocheremo tutte perché io proprio io mi annoierei a giocarle tutte voglio che questa serie sia bella ma anche di intertenimento e quindi le partite quelle più facili le simuleremo semplicemente allora ragazzi questa è la squadra mi metto un attimo a sistemarla e vi faccio vedere anche la squadra che voglio fare ma prima prendiamo il giovane della primavera perché abbiamo Nicolas De Luca mamma mia un CC 16 anni e 70 di overall italiano ovviamente abbiamo anche questo qui Galib Abdullah è un 61 ma lo lasciamo lì per adesso allora ragazzi questo giovincello vediamo un po' il nostro De Luca vediamo un po' se fa l'upgrade non fa l'upgrade però aspetta vi metto un attimo un modulo a caso ecco fa più 2 e messo il COC ok quindi fa l'upgrade e messo il COC poteva andarci meglio ma noi ragazzi punteremo su di lui il capitano non sarà più Lollo Pellengrini ma sarà Nicolas De Luca al nostro giovane della primavera De Luca gli cambiamo subito la maglia al potenziale di diventare speciale e limitiamo la maglia numero 10 poi vedo se cambiarla non so se lasciarli la 10 ora ci penso credo però di lasciarli la 10 di Francesco Totti anche se Totti era un attaccante lui un trequartista vabbè siccome il nostro giovincello che crescerà gli diamo la 10 gli diamo fiducia vediamo se anche in campo poi sarà effettivamente il nuovo Francesco Totti ecco qui la prima offerta ho già messo tutti i giocatori sulle liste dei trasferimenti o della lista dei prestiti e Gianluca Mancini è uno di questi perché ho altri nomi in mente la lista la mia lista la mia hub mercato non ve la faccio ancora vedere ma Mancini non rientra attualmente nei miei piani è un 26N è solo un 81 e a me sta anche un po' sui maroni quindi lo vendiamo e ci incassiamo 35 milioni Mancini venduto altre offerte ci hanno pagato la clausola registrata di Zalewski che adesso vado a rinnovare il contratto per quanto riguarda Rui Patricio qua che cacchio è successo si è pagato tutto aiuto che cacchio è successo porco Mancini venduto altre offerte Rui Patricio 4 milioni i Zalewski ci hanno pagato la clausola le rinnovo adesso il contratto allora Rui Patricio potrei venderlo effettivamente ma cacchio ma non era un 82 cioè è già calato di due impossibile oh io mi ricordo che all'inizio dell'anno era un 82 ma non so se nell'ultimo aggiornamento l'hanno depotenziato e allora ci faccio un pensierino a vendolo perché riga un 80 si riga lo vendo lo vendo accetto i 4 milioni e me l'incasso e adesso vado a rinnovare il contratto a Zalewski altre offerte a Zalewski lo blocchiamo perché è nostro e ce lo teniamo Darboy lo mandiamo in presito accettiamo di qua Bove anche perché è giovane deve crescere qui con noi troverebbe pochissimo spazio I Bagnez allora io non l'ho messo sulla lista dei trasferimenti e poi è la Lazio mi danno casale corcacchio rifiutiamo no non lo do solamente perché è la Lazio ora Cristante e allora io lui non l'ho messo sul mercato però è solamente un 80 effettivamente c'è qualcuno di meglio rispetto a lui allora non lo so facciamo così io rifiuto se mi arriva un'altra offerta però l'accetto ragazzi se abbiamo parlato troppo ora agiamo voglio il difensore centrale perché Mancini l'abbiamo venduto voglio vendere anche Smalling ed è lui il nome che voglio Nikos Klotterbeck lo voglio costa poco quindi lo prendiamo e offro il suo valore di mercato 37 milioni più una clausola del 10% vediamo cosa ci dicono 45 abbassiamo a 40 milioni dai 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 però facciamo vabbè dai ci riprovo l'ultima volta 40 milioni modifichiamo facciamo 15% di clausola vediamo se accettano 42 8 dai preso va bene così Schlotterbeck è il primo acquisto li facciamo subito il contratto i veri tifosi romanissimi anche altri tifosi saranno accorti del fatto che l'allenatore della Roma non è Murigno ho preso un altro allenatore perché ragazzi su FIFA Murigno non c'è ho preso Rudy Garcia perché tra l'altro ha allenato la Roma in passato perché mi sa simpatico l'ho preso allora 50 milioni dai 50 milioni 50 mila scusate per Schlotterbeck preso ecco qui il nuovo difensore della Roma fatemi sapere se vi piace come acquisto è interessante un ottimo difensore che volevo prendere oh voto A ottimo acquisto ma ne voglio un altro di acquisto facciamo un altro acquisto sarà proprio lui Mazzrawi terzino destro che voglio prendere al posto di Karlsdrop infatti metteremo Karlsdrop come contropartita più la bellezza di 17 milioni vediamo un po' cosa ci dicono sono interessati a Karlsdrop perfetto non rientra nei miei piani offro 20 milioni più Karlsdrop 22 dai preso questo acquisto ottimo facciamo subito il contratto ruolo cruciale cruciale a posto facciamo 5 anni di contratto contratto a vita per Mazzrawi terzino destro marocchino che può aiutarci sicuramente in questo progetto lungo ma vincente della Roma FC qui sul mio canale Mazzrawi preso Karlsdrop più 22 milioni vediamo che voto ci danno credo una B no una A perfetto ottimo a fare ragazzi non finiremo il calciomercato in questo video ma lo finiremo nel prossimo e giocheremo anche delle partite dopo andiamo a vedere anche il tabellone ma adesso facciamo dei cambi ruolo perché di Bala diventano 87 tanta tanta roba li facciamo il bug e li mettiamo il bug e qui del cambi ruolo e faccio lo farò anche per tutti gli altri esterni e terzini Pellegrini diventa un centrocampista centrale non fa l'upgrade ma va bene così li mettiamo il piano di crescita e anche il nostro giovane purtroppo si chiama Nicola si chiama Francesco De Luca che bello figlio di Francesco Totti invece no Nicola De Luca ma va bene così per noi sarà Totti Totti De Luca va bene Francesco De Luca va bene ruolo C o C fa più 2 e deve migliorare molto ragazzi perché secondo me in game non è fortissimo perché ha ottimo passaggio ottimo discreto passaggio discreto di ribling ma tiro e velocità infatti mi sa che gli metto questo cambio c'è questo piano di crescita e poi anche Zalewski ma deve ancora finire deve diventare una S ragazzi questa è la squadra ve la faccio vedere con Svilar che dobbiamo prendere il portiere quindi dobbiamo il portiere ancora non c'è per adesso c'è Svilar Mazzarui nuovo acquisto Ibanez Slotterberg Spinazzola che forse cambierò ma non lo so non credo abbiamo centrocampo Cristante Pellegrini Pellegrini rimane il capitano anche se vabbè adesso è De Luca Cristante forse andrà via di bala titolare ovviamente De Luca il nostro giovane Zalewski che credo di confermarlo e anche Tammy Abram nel prossimo video quindi sistemeremo anche un po' la panchina venderemo ancora qualcuno prenderemo un portiere e forse un terzino centrocampista non lo so vediamo effettivamente De Luca è molto scarso per giocare in questa Roma ma non mi interessa molti di voi diranno ma Zagnolo Zagnolo ragazzi qua in panchina questo cresce come un dinosauro qua in carriera posso metterlo in qualsiasi ruolo dell'attacco e comunque mi fa l'upgrade o comunque può farlo e questo cresce veramente alla velocità della luce però no ragazzi perché nella vita reale Zagnolo non so se è ufficiali sto registrando il video l'8 febbraio ed è quasi ufficiale Zagnolo sarà un nuovo giocatore del Galatasarai quindi io sincero non so se voi lo volete ancora non l'ho venduto quindi magari a parte che voi vedrete il video ma avrò già registrato il prossimo quindi voi nei commenti comunque consigliatemi qualsiasi qualsiasi cosa da fare in questa carriera qualsiasi cosa perché voglio sapere anche il vostro parere però ovviamente per quanto riguarda le cessioni quindi se devo vendere qualcuno sapete che sono avanti di due o tre video quindi non vi potrò leggere ma Zagnolo credo di venderlo perché con quello che ha detto e quello che ha fatto non lo so io lo venderei poi nei commenti fatemi sapere la vostra quindi questa per adesso è la squadra nel prossimo video la finiremo spero che questo primo video vi sia piaciuto spero che questa carriera la supporterete e vi piacerà come la scorsa iscrivetevi al canale attivate la campanella lasciate like commentate condividete il video con tutti i vostri amici forza Roma e noi ci bicchiamo in un prossimo video bella